Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video, torno con un book tag, New York Times book tag, mi hanno taggato due ragazze, Elena Monti e Moatiland, che ringrazio, ho visto già i loro video, molto interessanti, carini, vi consiglio di andarli a vedere e ho deciso anche io di fare a mia volta questo book tag. Inizio subito, che libro hai sul comodino in questo momento? Allora, io in questo momento ho tre libri, non sul comodino fisicamente ma in giro per casa, di solito io tendo a leggere un libro alla volta, però a volte mi capita di avere più libri in lettura, magari perché alcuni leggo con un GDL, altri perché sono saggi, altri perché sono romanzi, mi piace anche alternare. Infatti, ho iniziato questo saggio, uscire dalla paura, rompere l'identificazione col bambino emozionale, in edizione economica Feltrinelli, di Krishnananda, questo psichiatra e maestro spirituale, molto interessante. Mi piace alternare saggi anche a romanzi, a me li leggo sempre molto molto volentieri e questo l'ho trovato all'usato, lo trovai e lo avevo messo in TBR e ho deciso di leggerlo. Poi ho iniziato a leggere insieme ad un GDL di Valentina, poi ve la cito anche lei sotto i commenti che ha un profilo Instagram, una pagina Facebook, questo che mi ha gentilmente inviato la casa editrice Gerzanti, un grammo di felicità al giorno. Un libro, una storia molto carina, un libro leggero che si legge molto bene, sono arrivata alla prima tappa, seguo le tappe di questo gruppo di lettura, abbiamo iniziato questa settimana e questo penso che me lo porterò anche a dicembre, perché vado a rilento, vado insieme a loro. Una storia che invita a scoprire che siamo veramente ad andare sempre avanti, sperare a osare dando una nuova possibilità alla vita. Questo lo potete trovare, è uscito adesso, un libro nuovo di Siri Ostli, una psicologa anche, è un libro anche molto motivazionale, romanzato ma comunque che ha questo significato di non arrendersi alle difficoltà della vita e di cercare sempre il bello nelle piccole cose. Io amo questo, questi significati, questo genere di romanzi, mi piacciono molto. È un libro comunque che si legge, è scorrevole, molto leggero. Poi mi sono messa in lettura, ho scelto dalla mia TBR, ho pescato un altro libro che avevo lì da anni e anni e anni, La misura del tempo di Gianrico, caro figlio. Questo conto di finirlo questo mese è un giallo, mi sta piacendo, devo dire, mi sto apprezzando. Avevo letto di lui un altro libro di caro figlio ma non mi era piaciuto, infatti l'ho dato via, non ve lo posso far vedere, mi pare si chiamasse il libro Il silenzio dell'onda, una cosa del genere, questo non è male, non è uno dei miei scrittori preferiti, devo dirvi la verità, però mi sta piacendo, devo dire. Si parla qui di Guido, questo avvocato che incontra dopo tanti anni Lorenza, madre di un ragazzo che è stato accusato, insomma che ha commesso omicidi che è in carcere, omicidio volontario in carcere. Comunque poi ve ne parlerò meglio quando l'ho terminato nelle letture del mese. Poi vado avanti, altrimenti mi dilungo troppo e poi non finisce più il video. Qual è l'ultimo libro che ho letto? L'ultimo libro che ho letto è stata una bella scoperta di questa autrice che io non conoscevo, che voglio leggere altro sicuramente di lei, infatti su Instagram ho chiesto consiglio su quale libro voi avete letto per consigliarmelo. Joyce Carol Oates, sto parlando di un'educazione sentimentale, questo io l'ho preso in biblioteca, è una raccolta di racconti, di racconti tematiche che parlano di violenza. Io amo molto questo genere di libri, mi è piaciuto molto anche la scrittura, la sua scrittura è una scrittrice americana che ha vinto nel 70, ha ricevuto il National Book Award e che oggi è candidata anche al premio Nobel. Non la conoscevo, ne avevo sentito parlare spesso, tanto tanto, e quindi mi sono voluta approcciare a lei e sicuramente leggerò altri suoi libri. Molto interessante questa scrittrice, poi io amo queste tematiche, comunque mi piacciono sempre molto, dove si parla di questi temi un po' inquietanti direi. Terza domanda, se potessi incontrare un autore vivo o morto, chi vorresti che fosse e cosa gli consigliereste? Allora, di morti mi sono venuti in mente due autori vivi che io amo molto, una è Isabella Yand, vorrei incontrare lei, cosa gli consiglierei? Mi farei consigliare io da lei, non io a lei, di continuare così, così come vorrei tanto incontrare, se potessi, il mio amato King, e anche lui, accetterei solo consigli da lui, cosa gli consiglierei io? Anche lui, madonna mi impaspino oggi, scusate, vi consiglierei di continuare a scrivere centomila libri come sta facendo tutt'oggi. Mi farei una bella chiacchierata con entrambi, due generi completamente diversi, un uomo e una donna, un'autrice, la Yand, che tratta tematiche, cioè mi piacciono sempre tanto i suoi romandi, infatti vorrei leggere, mi aspetta da leggere anche questo, non vedo l'ora, lo avevo messo in TBR, ma ancora non l'ho letto, e King, loro mi sono venuti, i primi che mi sono venuti in mente. Poi, quarta domanda, quale libro saremmo sorpresi di trovare nella tua libreria? Nella mia libreria, cosa vi può sorprendere? Trovare generi di fantascienza che io non ho, perché non ce li ho, non so, non so cosa rispondere sinceramente, cioè non ho capito neanche tanto il senso, comunque penso quelli, perché nella mia libreria sinceramente c'è un po' di tutto, ecco, magari questi generi di fantascienza non ci sono, non li ho tanto rispetto ad altri generi, solo questo, però boh. Passiamo all'altra domanda, come organizzi la tua libreria? Allora, la mia libreria vi ho fatto ultimamente un video, vi ho girato di Bookshelf Tour, come si pronuncia, dove vi ho mostrato appunto la mia libreria, che è organizzata in libri letti e libri non letti, come avete potuto notare, la maggioranza di libri sono nella parte sottostante, ossia nei libri che io non ho ancora da leggere, che io non ho letto, però mi piace tenerli così, perché? Perché così mi rendo conto, mi rendo conto di quanti libri ho da leggere, ma magari mi franno un po' di più negli acquisti, cosa che comunque non succede, però vabbè, va bene così. Comunque io ho letto anche tanti libri, però non li tengo tutti, li ho dati via per fare spazio magari ad altri, e tendo comunque a scambiarli, a venderli, oltre ai libri che non mi sono piaciuti, ho scambiato anche libri che mi sono piaciuti, e devo dire, non do via solo quelli che non mi piacciono, ma tendo a, non come vi ho già detto, a non essere troppo ossessiva nei confronti del libro come oggetto, insomma mi piace farlo girare, scambiare, così far felici altre persone, ecco. E poi la organizzo per casa editrice, mi piace molto organizzarla per casa editrice, tutti gli Adelphi, tutti gli Eonaudi, i King ad esempio anche per autore l'organizzo, perché tipo Stephen King e di Isabella Yenda, appunto li tengo tutti insieme, fatta eccezione ecco per alcuni autori, però la maggior parte dei miei libri li li trovate per casa editrice, poi adesso oltre che li sto mettendo in doppia fila, li sto mettendo in orizzontale, insomma, come avete visto, un po' un caos, ma dall'altra parte, quella è la mia libreria, cioè volendo sì, posso occupare anche armadiette, armadi, cose, però vabbè, mi piace tenerli principalmente lì. Sesta domanda, quale libro ti vergogni di non avere ancora letto? Ecco, io non mi vergogno assolutamente di non aver letto ancora determinati libri, come ad esempio Il Conte di Monte Cristo, i classici, i grandi classici, io ancora non li ho letti, molti, e non mi vergogno assolutamente, non c'è da vergognarsi, ecco, infatti questa domanda non la concepisco molto, però rispondo così, rispondo così, non mi vergogno assolutamente di non aver letto ancora nessun libro, perché la lettura è solo un piacere, non deve essere né una gara, non deve essere né né chi legge di più, ecco, tu non vali niente se non hai letto quel libro, non è assolutamente così, non sai nessuno se non hai letto quel libro, assolutamente. io dico sempre, voglio lanciare questo messaggio, come dico sempre, sui miei social, l'importante è leggere, poi si può leggere Topolino, si può leggere i grandi classici, si può leggere quello che ci piace, l'importante è leggere, poi non è rilevante quello, infatti passo, ho risposto così. Settima domanda, che libro teoricamente ti sarebbe dovuto piacere, invece non ti è piaciuto, ricordi qual è l'ultimo libro che ho abbandonato, allora ricordo l'ultimo libro che ho abbandonato, perché è stato quest'anno, un libro che ho lasciato a metà, ma non perché non mi piace l'autore, perché ho lasciato a metà un libro di Tiziano Terzani, autore che a me piace tantissimo, di cui ho letto diversi libri, tipo ho letto, vediamo se mi ricordo, un indovino mi disse, ancora no, un indovino mi disse, e poi ho letto un altro giro di giostra, libri che vi straconsiglio mi sono piaciuti tantissimo, però questo, lettere contro la guerra, non lo so, dove sono arrivata, ho perso anche il segno, comunque avevo messo un segnalibro, ah ecco, no, ce l'ho, io non amo abbandonare libri, non amo lasciare libri a metà, comunque qui mi è successo, perché comunque penso anche che non deve essere una forzatura, se non proprio non ce la facciamo in quel determinato momento, sono arrivata qua, pagina 78, comunque sì, ero arrivata anche, insomma, a un buon punto, a metà, quasi metà, comunque si parla di guerra, l'ho trovata un po' pesante, non ero pronta di affrontare questo genere di tema, però ecco, un libro che non escludo, cioè, che riprenderò sicuramente a leggere, e libri che non mi sono piaciuti, teoricamente ti sarebbe dovuto piacere, ma dove sta scritto che a me mi sarebbe dovuto piacere, invece non mi è piaciuto, ebbene sì, è stato un libro che ho letto, mi pare, quando l'ho letto, non ricordo, che ho preso in biblioteca, La casa sul mare celeste, ora non fucilatemi, non ammazzatemi, ma io ho sentito parlare benissimo di quel libro, ma a me non è che mi abbia entusiasmato molto, non lo so, non era forse il momento, non lo so, non l'ho apprezzato come avrei dovuto, non lo so, forse era un po' fantascienza, a me questo genere, insomma, non è che mi piacciono molto, però, insomma, mi viene in mente quello, ottava domanda, che tipo di storie o generi non ti piacciono, e di solito eviti, allora, io sono arrivata a leggere anche romanzi storici, io di norma non è che sia un amante del genere storico, oltre che di quello di fantascienza, ecco, sono genere di fantascienza storico, non sono uno dei, non sono i miei generi preferiti, però, diciamo che io, sono una lettrice abbastanza aperta a tutto, non, ho nella mia libreria anche dei romanzi storici, che devo leggere, che voglio leggere, no, che devo, che voglio leggere, e quindi sono una lettrice abbastanza, leggo un po' di tutto, come vedete, io non ho un, non ho un genere particolare, nel mio, nel mio canale, su Instagram, anche trovate ogni genere, un po' di tutto, dal genere horror, dai romanzi, dai saggi, mi piace leggere un po' di tutto, non lo so, mi piace variare, però, ecco, se dovessi, puoi scegliere, quale genere evitare, anche se non lo evito, questi generi qua, però leggo anche questi, vi devo dire la verità, non ho una domanda, se potessi consigliare un libro al presidente, quale libro li consiglieresti, ma cosa li dovrei consigliare al presidente, gli direi al presidente, si iscriva al mio canale, si faccia un'idea, oppure, si iscriva, guardi, mi seguo anche su Instagram, che è a Cabuclover, è la mia pagina Instagram, e vedi tu, e veda lei, quale libro possa fare al caso suo, se no, ecco, vi consiglierei il grande libro di Stephen King, La vita, le opere del re del terrore, un libro che a me piace tanto, che sto, mi sto centellilando, vediamo se anche a lei piace questo genere, una domanda un po' così, vabbè, passiamo all'ultima, vediamo un po' perso il filo, qual è il prossimo libro che leggerai, allora, io il prossimo libro, niente, oggi mi impappino, qual è il prossimo libro che leggerai, il prossimo libro che io leggerò, sarà sicuramente, Donna Tarte, Dio di Illusioni, perché? perché è la lettura che ha vinto nel mio GDL, su Telegram, nel mio sondaggio, il libro che ha vinto è stato questo, e io, questo sarà il prossimo libro che leggerò, felicissima, e, libro rinomatissimo, insomma, un libro famoso, parla di questo college nel Vermont, cinque ragazzi ricchi e viziati, e il loro eccentrico e affascinante professore di greco antico, che insegna al di fuori delle regole accademiche, imposte dall'università, e solamente una cerchia ristretta di studenti, un'elite di giovani che vivono di eccessi e illusioni, lontani dalla realtà che li circonda, immersi nella celebrazione di un passato mitico e idealizzato, tre studi classici e riti dionisiaci, alcol, droghe e sottili giochi erotici, fino a che in una notte maledetta esplode la violenza, e il loro mondo inizia a crollare inesorabilmente, pezzo dopo pezzo, insomma una storia folgorante di amicizia e complicità, amore, ossessione, colpa e follia, un romanzo di formazione, uno dei più grandi casi editoriali degli anni 90, se siete interessati e vi volete unire, vi lascio il link telegram qua nelle info, mi farebbe piacere se vi unite a noi, e questo sarà sicuramente il prossimo libro che leggerò, le domande sono terminate, io ho la gola secca, scusate, paperissimo ho fatto oggi, mi sono impappinata un sacco di volte, comunque spero che nel mio piccolo, questo video vi sia stato utile, possa essere stato utile, vi abbia strappato una risata, mi devo fermare, altrimenti la lingua mi si, non lo so, non lascio algo più, un bacione, ciao ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, non ve lo dico mai, ma fatelo, poi lasciatemi un commento qui sotto, io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia, e ci vediamo nel prossimo video,